Anche nel centro italiano venezolano si è alzato il sipario del mondiale Brasile 2014. Come nelle maggiori piazze in tutto il paese, anche nel centro italiano venezolano è stato allestito uno schermo gigante per seguire partita dopo partita l'avventura azzurra. Così piccoli e grandi nel Salone Italia si sono dati appuntamento per la partita tra Inghilterra e Italia. Le immagini dell'esordio azzurro, proiettate in uno schermo immenso, allestito anche grazie alla collaborazione di Dirett TV, hanno fatto vivere momenti di grandi emozioni. Ogni azione dell'undici italiano è stata accompagnata da applausi, urla e sospiri. Allegria, felicità, sorpresa, tensione, ansia, angoscia, riflessi nei volti di piccoli e grandi. Solo in occasione dei mondiali di calcio il Salone Italia risulta insufficiente per accogliere tutti i tifosi. Così non c'è stato televisore e piccolo schermo senza folla di soci attenti a seguire la squadra di Prandelli. Dopo il trionfo, l'esplosione di gioia, gli abbracci, il tripudio tricolore.